Il ricordo di Ilaria Zanetti, i paesaggi e le colline tra la Val Vezeno e la Varriglio, l'impegno per sostenere la ricerca e la prevenzione contro il tumore al seno, il desiderio di promuovere le bellezze del territorio tra arte, musica e natura. Sono questi gli ingredienti che hanno colorato di entusiasmo e di gioia la camminata in rosa organizzata da Promis Grupparel, Borgo di Sariano e Nuova Proloco di Gusano nel pomeriggio di sabato. Circa 700 le persone che hanno risposto presente per vivere insieme ad amici e parenti un'esperienza unica diventata speciale grazie a Maurizio Marchioni con la sua chitarra classica, Alberico Barabasche e il suo sax e DJ Cave che ha trasformato l'ultimo ristoro in una vera e propria discoteca nel bosco. Non solo musica ma anche arte e pittura grazie al talento inconfondibile di Alice Iudicello. L'intero ricavato dell'evento che si è sviluppato tra Sariano e Gusano verrà donato ad Armonia, associazione che da oltre 30 anni è impegnata nella sensibilizzazione nella lotta contro il tumore al seno. L'iniziativa, resa possibile grazie all'impegno di 50 volontari, ha inaugurato ufficialmente il mese in rosa dedicato proprio alla prevenzione. L'assegno sarà consegnato giovedì 7 novembre nella sala consigliare del comune di Gropparello, dove si terrà un incontro con il dottor Dante Palli, direttore della chirurgia senologica dell'Asile di Piacenza, con al centro l'importanza di mantenere corretti stili di vita e la promozione di diagnosi precoce e prevenzione. Sabato scorso le centinaia di partecipanti di tutte le età hanno potuto scegliere tra tre differenti percorsi. Il più lungo approdava la festa delle castagne di Gusano, che anche quest'anno ha riscontrato un grande successo di pubblico. Dopo un bicchiere di vino e qualche caldarrosta in compagnia, i podisti hanno fatto rientro a Sariano grazie al servizio di navette gratuito. I sorrisi e i cellulari pieni di fotografie dei partecipanti rappresentano la firma della buona riuscita dell'evento. Il prossimo, targato Promise Grupparello, sarà la festa di Halloween il 31 ottobre in Piazza Roma, con la collaborazione di Castello e Bar di Gropparello. Il volontariato in Val Vezeno fa rima con bellezza e valorizzazione.